La partita sulla spiaggia, ad esempio, è un momento di grande passione, ecco, perché secondo me la cosa bella è vedere raccontato questo mestiere e i suoi aspetti dal punto di vista di chi lo vive col cuore, oltre che con la testa e la capacità. Cova Gabbana. E' già il nome, ragazzi, cioè, come di mattina. E poi uno dice così, ma, cioè, è vero che c'è stato un sottame, ma sono stato pure 30 giorni con la finestra al settimo piano sul vista su Copa Gabbana. Eh, è tutta l'ugia. Insomma, c'è un po' di tutto da questo punto di vista. E abbiamo quella particolare trasferta, andò benissimo, perché eravamo in un bel posto. Torniamo da una cena, sono tipo le due di mattina, e Copa Gabbana come caratteristica è che le luci sono sempre, durante il mondiale, poi non so se anche nei giorni di normali così, ma le luci sono sempre accese su questi campi da calcetto, sulla spiaggia, aperti, campi da football, liceo, qualsiasi cosa. Noi alle due stiamo tornando, e a un certo punto ci sono dei ragazzi che giocano a calcetto, e argentini, se non sbaglio perché dovrà giocare la finale all'argentino. Allora, ci torniamo lì a guardare, e io ero con Ale Del Piero, Beppe Bergomi, Lelia Adani, il nostro collega, e Costa Curta. Allora, questi cinque cominciano a giocare, Costa Curta, che come Lovadani forse fa, ma possiamo giocare? Si levano la camicia, si levano i suoi pantaloni, e incominciano a giocare con questo mio amico Marco Cattà, mi importa, vestito così. Lui era andato in onda, poi era venuto a cena, quindi ci stava a piedi nudi, con il vestito blu, la camicia bianca, cioè così, parava così. Come qualche portiere, come qualche portiere anche ogni tanto male, però lui, ed era, poi c'erano Adani, Costa Curta, Del Piero, e forse in quattro erano, quattro contro quattro. Cominciano a giocare, 1-0 per i nostri, perché Beppe non giocava, perché avevamo mangiato, non mi ricordo, forse avevano avuto tipo 10 piedi, non lo so, per quattro. Certo, 1-0, 2-0 per loro, certo punto arriva una palla alta, e Del Piero fa, ecco che scelterà Del Piero. Questi rimangono un po' così, li vanno vicino, alla luce, dicono, ma tu sei Del Piero, tu sei Del Piero, tu sei Costa Curta, tu sei Costa Curta. Poi da nawet i Nullissimi.